La situazione meteorologica sull'Europa è dominata da due figure, una profonda saccatura con annessi fronti che insiste da giorni sull'Europa occidentale, un'alta pressione nel mezzo e una depressione in fase di colmamento a est. Vediamo sulla carta prevista per domani relativa ai fronti al suolo una prevalenza di alta pressione con assenza di fronti significativi su tutta l'area mediterranea e quindi anche sull'Italia. Nel dettaglio per la giornata di sabato sulla regione c'è in genere sereno al mattino, qualche nuvolamento possibile nel pomeriggio e forse ancora qualche isolato rovescio in montagna, poco probabile. Venti di brezza, temperature in lieve aumento ulteriore nei valori massimi, sfioriamo i 30 gradi localmente in pianura, intorno ai 25 sulla costa appunto per la brezza un po' più fresca dal mare. Per quanto concerne il prosieguo avremo ancora caratteristiche di cielo sereno soprattutto al mattino su tutta la regione, poi in giornata avanzano delle velature da ovest che potranno rendere il cielo al più poco nuvoloso. Probabilità di precipitazione è molto bassa se non del tutto assente sulla regione anche in montagna, venti di brezza salvo un po' di borino forse al mattino sulla costa e temperature in ulteriore aumento sia le minime che le massime che raggiungono e localmente superano i 30 gradi in pianura. E dello Salvatore Metodo dell'ARP Arturo Pucillo vi saluta.